posta le tue montagne è un libretto perché effettivamente le pagine sono tantissime che ho scritto in un flusso di coscienza proprio in una settimana vada bim cioè mi è venuto tutto molto velocemente poi chiaramente l'ho ripreso l'ho rielaborato cambiato qualche parola perché bisogna cercare poi di curare anche i dettagli diciamo che nella prima parte del libro cerco di mettere come posso dire in discussione il modo con il quale guardiamo la realtà perché come scrivo in sposta le tue montagne come dicono i cabalisti nessun essere umano percepisce la realtà per quella che ognuno di noi si mette il suo filtro abbiamo dei filtri che vengono dai condizionamenti della società della religione della scuola dei genitori e di tante altre cose quello che invito a fare in questo libro nella prima parte quello di rimettere in discussione come vediamo le cose perché ci possono essere altri modi per vedere e guardare la realtà l'invito che vi faccio è di vivere una vita straordinaria non di fare quello che io vi dico ma semplicemente cioè io do delle indicazioni questa cosa qua quello che io scrivo qua mi fa star bene veramente proprio una gioia incredibile nella vita anche quando ci sono i momenti negativi penso sia necessario mettersi lì proprio a cercare di trarre il meglio da ogni situazione e quindi vivendo nell'attimo in cui siamo che è il momento più importante della nostra vita possiamo godere della dell' adesso in qualsiasi momento perché lì qui adesso in ogni adesso c'è la vita che si manifesta e possiamo veramente vivere ardendo dentro ed è questo quello che invito a fare io non ho interesse a essere considerato un guru maestro sono un ricercatore che ha avuto le sue esperienze che desidera condividerle e credo che sia fondamentale anche creare quella che io definisco mente collettiva e ognuno di voi può dare un suo contributo per rendere questa serata questa presentazione qualcosa che rimane dentro non avevo deciso cosa avrei detto così mi sono detto vabbè vediamo cosa succede ho fatto nel pomeriggio una breve preghiera riferita a dio l'assoluto come lo volete chiamare l'universo perché poi ognuno ha le sue idee al riguardo e poi ho aperto a caso il libro e vi leggerò una piccola parte il capitolo il capitolo è il sesto e si intitola il nulla che contiene ogni cosa e come citazione iniziale c'è una citazione di un film che io amo tantissimo blade runner il nulla che contiene ogni cosa io non ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi eroi betti in blade runner tempo dietro ho avuto un'esperienza straordinaria che ora vi racconterò esistono tecniche statiche che possono portare la vostra coscienza in dimensioni spirituali che trascendono la realtà di consenso per portarvi in mondi che sono oltre ogni immaginazione forse avete sentito parlare della mercavà il carro celeste che zecchiele vede nella sua visione nel libro a lui dedicato nella bibbia egli nella sua visione vede il carro sul quale si trova il trono di dio abraham abu laffia mistico cabalista del tredicesimo secolo elaborò delle tecniche di cabalai statica con le quali si può raggiungere la visione anche se molti cabalisti le proibiscono a causa del rischio di uscire di senno molte leggende narrano di cabalisti impazziti in seguito alla visione è stata per me una delle esperienze più straordinarie a livello spirituale di una magnificenza indescrivibile a parole e nella quale ho visto cose che hanno trasformato per sempre la mia percezione della realtà le schiere celesti la corte angelica al completo e divinità di infiniti mondi mi guardavano come se fossero state da sempre in attesa ed una voce possente mi disse ora puoi vedere il volto di dio e questo volto era il nulla il nulla che può contenere il tutto l'origine di ogni cosa immaginate che in questo nulla tutto ogni cosa esista già da sempre dall'eternità come infinito potenziale che ogni possibile scelta fatta da ogni essere umano e non esiste già ogni potenziale passato presente e futuro esistono già in questa dimensione oltre lo spazio ed il tempo infiniti mondi infinite dimensioni parallele dove voi stessi vivete avendo scelto in maniera diversa in ogni diramazione temporale possibile e tutto è presente in questa infinita eternità tutto ciò che esiste e ciò che non esiste sono presenti in questo infinito potenziale è l'einshof che dall'ebraico può essere tradotto letteralmente come nulla infinito nel taoismo prima del tao esisteva il vg il vuoto cosmico preesistente all'equilibrio dell'unità duale dal tao rappresentato e da questo vuoto primordiale che ancora sussiste tutte le cose emergono e vengono richiamate nella realtà materiale dal sommarsi democratico di tutti i pensieri pensati dovunque mi rendo conto che sentire un'esperienza di questo tipo può essere abbastanza forte perché questo qui che cosa si è fatto no in realtà è proprio un'esperienza puramente spirituale e credo che comunque chi è in questa sala avendo ha avuto esperienze di carattere spirituale può aver avuto esperienze simili non dico come questa ma esperienze importanti che ti trasformano completamente quando scrivo di del fatto che la realtà materiale è la somma democratica di tutti i pensieri pensati dovunque affermo una cosa che avevo in modo di leggere tanti anni fa in un libro di Igor Sibaldi se non ricordo male è proprio i maestri invisibili che non riuscivo a comprendere completamente poi nel tempo mi sono reso conto sia nella mia vita ma anche nella vita delle persone che mi ci ricondavano che il pensiero ha un impatto reale nella vita e ogni singolo pensiero che maniamo si somma ai pensieri degli altri quindi la sfera materiale nella quale viviamo è l'insieme di tutto quello che ognuno di noi pensa per questo che io nel libro invito ognuno di voi a essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo come diceva Gandhi perché ogni singolo pensiero ogni singola parola ogni singola azione che facciamo contribuisce a rendere questo mondo quello che è nel bene e nel male anche quando lanciamo invettive contro quello lì che ci ha tagliato la strada nel in mezzo a un incrocio dico in generale è un'importante responsabilità certo non è che dobbiamo viverla però come dire oh mio dio ho questa responsabilità mi porto un macigno no assolutamente anzi io vi invito proprio a cercare di vivere le cose in maniera leggera poi la cosa interessante per esempio l'etimologia a volte in italiano ma anche in altre lingue ci aiuta per esempio in inglese light vuol dire sia luce ma anche leggero quindi possiamo vivere la vita in maniera leggera e luminosa non sentirci costretti a vivere in quel modo perché comunque dobbiamo essere positivi no perché se siamo presi male per situazioni pesanti non dobbiamo negare noi stessi quello che stiamo vivendo dobbiamo vivere fino in fondo e cercare di trarne il massimo ecco io volevo però fare un piccolo una piccola cosa un disegno semplicemente una cosa che descrivo nel libro molto semplice ok immaginiamo la realtà come i 360 gradi più o meno diciamo così cioè più o meno il cerchio non i 360 gradi è un quasi cerchio ok allora la realtà diciamo che ha 360 gradi no e per poter vedere la realtà per quella che è dovremmo conoscere tutti i 360 gradi noi potremmo discutere animatamente con chiunque avendo questa fetta di informazioni ok qualcun altro potrebbe avere sempre sullo stesso argomento un'altra fetta di informazioni che sono al lato opposto della torta ok da un punto di vista relativo potremmo discutere con una persona avendo ragione entrambi da un punto di vista relativo perché se abbiamo le informazioni X cioè tipo la situazione che riguarda l'immigrazione la situazione che riguarda il calcio non so c'è stato il mondiale che riguarda qualsiasi cosa ha un tot di informazioni noi abbiamo questa parte di informazioni con tutte le informazioni che abbiamo che sono solo una parte abbiamo una prospettiva limitata pensando di avere la realtà tutta altre persone hanno le informazioni dal lato opposto e a loro volta hanno ragione da un punto di vista limitato perché considerano solo quella parte lì di informazioni quindi quando parliamo con le persone non è che ci dobbiamo dire ah ma te non capisci quella no è che hanno informazioni limitate tutti abbiamo informazioni limitate e quindi vi invito ad avere pazienza assolutamente io anche invito me stesso ad avere pazienza perché a volte anche a me capita di sbroccare come tutti gli esseri umani ma mi rendo conto che è così cioè noi abbiamo abbiamo la percezione limitata attraverso la conoscenza limitata che abbiamo dovremmo essere onniscienti per capire completamente la realtà e quindi vi invito a fare questa riflessione i sette passi quali sono i sette passi amate gli spoiler gli spoiler sono le anticipazioni insomma della trama delle storie dei film delle film allora i sette passi li illustro sono i sette passi che secondo me partono del desiderio fino a raggiungere l'azione che servono per portare il desiderio nella manifestazione materiale ma faccio anche un parallelismo tra i sette chakra che poi abbandono i chakra perché a noi non interessa se esistono veramente o meno parliamo come sistema concettuale ma anziché fare il solito percorso che va dalla materia verso il divino facciamo il percorso contrario cioè dal divino verso la materia e in più metto anche un parallelismo con i sette vizi capitali che sono i freni alla manifestazione una cosa fondamentale da prendere in considerazione è il fatto che esiste sia la componente passiva che la componente attiva in questo percorso la componente passiva è quella che riguarda l'abbandono nei confronti dell'assoluto cioè noi dobbiamo comprendere che siamo parte di qualcosa di molto più vasto e affidandoci a questa vastità a questo assoluto è l'assoluto stesso che ci aiuta ma c'è anche la componente attiva perché dobbiamo agire è come la famosa barzelletta in cui c'è il tipo che continua a pregare signore fammi vincere il 6 e superano l'8 fammi vincere il 6 e superano l'8 una sera 10 sere un mese due mesi poi a un certo punto una voce tonante gli dice ma quando la giochi sta schedina ok allora noi dovremmo sia dire ok signore assoluto universo come volete chiamare fammi arrivare questo risultato ma contemporaneamente dobbiamo muoverci l'ultimo passo di cui parlo è l'azione e qual è il vizio capitale corrispondente la pigrizia perché a volte semplicemente la pigrizia che ti frena ti blocca e tu sei lì ah sì ma oggi non so ah sì è bellissimo voglio raggiungere quella cosa però tipo voglio diventare il miglior violinista del pianeta ci vuole impegno dedizione perché uno per suonare bene uno strumento non è che fai così e dici ah voglio diventare il miglior violinista chitarrista pianista del mondo e poi dici sì ok faccio domani no ci vuole dedizione impegno costanza e abbandono per realizzare queste cose io a questo punto vorrei interagire con voi fatemi le domande che ritenete opportune io vi darò la mia opinione la mia opinione però non è che ha tal digme attenzione è il mio punto di vista chiaramente ho avuto delle esperienze importanti che possono essere utili ma se in quello che io vi dico trovate qualcosa che non mi convince non usatelo cioè vi invito a discernere nel senso che io posso anche in questo libretto posso scrivere cose che vi possono aiutare ma se non siete d'accordo va benissimo è il mio punto di vista nei confronti della manifestazione è il modo con il quale io vivo una vita che considero veramente bellissima e mi auguro che le persone possano vivere con l'intensità con la quale io vivo una volta mi trovo nella difficoltà estrema di spiegare come sto vivendo perché non è comprensibile cioè io da ragazzo anche all'inizio la mia ricerca spirituale se avessi anche lontanamente immaginato che avrei potuto vivere come vivo adesso non avrei messo una firma ne avrei messo 20 e allora se uno che era cioè io avevo una visione del mondo veramente negativa cioè veramente una visione oscura la sofferenza esiste nessuno la nega anzi dobbiamo esserne consapevoli ma nel momento in cui ci concentriamo sulla sofferenza l'alimentiamo quindi noi dobbiamo dedicare i nostri pensieri alle cose che possono migliorare questo mondo senza negare quello che esiste anzi possiamo contribuire a migliorare ma concentrandoci su creare una cosa straordinaria ecco vi ringrazio e vi chiedo ok colui che vi parla cioè io è stato ateo fino al midollo cioè nel senso che proprio non solo non credevo in Dio nell'assoluto ma avevo forti scontri con coloro che mi parlavano di fede proprio io ero ateo anche per motivazioni ideologiche chiudo la parentesi è stato un percorso difficile il mio personale che mi ha portato poi a quella fede che vivo tuttora ma io nel libro non parlo di fede come fede in una religione ma fede come modo attraverso il quale relazionarsi nei confronti della vita poi io ho le mie convinzioni personali nella pratica religiosa che non è necessario definire perché ognuno ha le sue io sono beh lo dico cattolico ma ho un profondo amore e rispetto per tutte le visioni ho studiato un po' tutta la religione ho avuto delle esperienze in tutti i contesti mi sono fatto una serie di domande la fede che viene inserniata normalmente o meglio la fede che passa alle persone perché poi dopo il problema qual è? ci sono persone che dovrebbero insegnarti la fede che sanno meno di quello che sta ascoltando fondamentalmente allora la vera fede non è non nasce dall'abitudine non è lo sforzo di credere in qualcosa che non si capisce ma è la coscienza di una certezza cioè tu sai che è così non ci sono ma perché come è la fede di cui parla Gesù nei Vangeli quando dice se aveste la fede grande quanto un granello di senape potreste dire a questa montagna spostati di qua là lei si sposterà e nulla vi sarà impossibile questo è secondo me il fulcro della fede ma gli stessi padri del deserto della chiesa ortodossa insegnano che la priera di richiesta è propedeutica alla fede cioè se io chiedo la realizzazione di un qualcosa prima ho fatto l'esempio del 6 super 8 parliamo di cose magari più non so tipo come? Ambo va bene parliamo di Ambo esatto bellissima parliamo di cose sì di un Ambo cioè tu chiedi l'Ambo capito e dici ah signore fammi fare un Ambo arriva l'Ambo e dici porca cazzozza è effettivamente è arrivato l'Ambo quindi io ho creduto cioè ho creduto che arrivasse perché devo proprio sapere che succede perché bisogna avere questa certezza e dici come fai ad avere questa certezza eh questo è un altro paio di maniche e bisogna lavorarci avendo esperienze ma quando tu hai l'esperienza poi le cose cominciano veramente a modificarsi ecco quindi per te la sede crede sporchiamente in qualcosa credere fortemente sì in qualcosa che poi se ne potrebbe discutere in lungo e largo su cosa perché ho amici che praticano il buddismo Nichiren quello che pratica Bajon Ami Or Renge Kyo amici di musulmani ebrei in tutte le tradizioni avvengono dei miracoli clamorosi delle cose che dici sono impossibili sono impossibili attraverso un punto di vista limitato nei confronti alla realtà perché non conosciamo determinate dinamiche ma se avvengono in tutte le tradizioni vuol dire che c'è qualcosa di più grande ok oltre le singole tradizioni ma infatti c'è per esempio cattolico a parte che uno si definisce cattolico molti gli danno già un bollino questo qui c'è il medioevo nella testa non è così cattolico a livello etimologico vuol dire universale io ogni tanto mi definisco cattolico borderline però capito cioè a livello etimologico vuol dire universale cioè quindi che trascenda ogni cosa ma sottolineo il fatto che qualsiasi religione o qualsiasi persona che definisca di avere dicca di avere la realtà assoluta pecca di superbia ognuno ha un certo numero di informazioni ha una sua visione e dice ho ragione io e lui ha ragione in effetti però quando capita che io do a persone le informazioni che capisco che le mancano e questa ha un incidente a fare come è possibile che persone che ricevono informazioni continuano a non cioè continuano a non comprendere la situazione ok il problema è il filtro con il quale le persone guardano il mondo se tu hai gli occhiali verdi filtri il mondo attraverso il verde nella tradizione yoga vengono definiti clash ci sono si è proprio definito in maniera molto chiara se tu hai gli occhiali rossi me limito vedi il mondo attraverso il rosso quindi se tu non sei disposto ad aprire la tua mente per fare altre nuove informazioni possono mettergli davanti miliardi di informazioni tu non lo percepirai se sei disponibile invece a voler aprire la mente ricevere nuove informazioni quelle nuove informazioni arrivano e lì le puoi elaborare però purtroppo c'è una certa difficoltà nel mettere in discussione il proprio punto di vista io mi ricordo una volta che abbiamo una discussione molto potente con un amico parliamo di contrapposte visioni su determinate cose e io gli ho detto a un certo punto tu sai esattamente quello che ti sto dicendo ma sai anche che se dovessi prendere in considerazione quello che ti sto dicendo dovessi cambiare il punto di vista e cambiare completamente il tuo modo di rapportarti nei confronti della vita e lui mi disse no no non è vero poi parlando con un amico mi ha detto io ci ho riflettuto su quello che mi ha detto Marco però non ho voglia di rimettere in discussione tutte le cose che ho vissuto il mio impegno in certe cose perché non è semplice purtroppo molte persone non hanno voglia di mettersi in discussione io mi sono messo in discussione tante volte perché mi sono reso conto che avendo cioè che cambiando punto di vista sulla realtà le cose cambiano però bisogna essere risposti a farlo nel momento in cui non lo sono noi siamo parte di un qualcosa di molto più grande non ne conosciamo tutti i meccanismi perché chiunque dica è così cosa ha no al tempo c'è qualcosa di più grande che la sa molto meglio di noi e lui o esso come lo volete chiamare che sa più di noi ecco c'è una differenza sostanziale tra due forme di conoscenza c'è la conoscenza quella speculativa e c'è la conoscenza esperienziale che è l'agnosi quindi la conoscenza speculativa noi la possiamo dare in senso che tornando al mondiale quante quali squadre hanno vinto i mondiali di calcio a 1930 all'Uruguay eccetera quella è la conoscenza speculativa cioè che a noi può interessare relativamente però sono dei dati che sono dati cioè questo questo è un libro questa è una pena questi sono occhiali anche se qualcuno potrebbe non essere d'accordo ma non vogliamo arrivare a quel punto ok questi sono dati informazioni concrete nella conoscenza speculativa ci sono dei dati incontrovertibili in teoria anche se poi ultimamente viene molto giocato anche sui dati l'avrete notato nella conoscenza esperienziale calagnosi come diceva giustamente Francesco non è possibile trasmetterla io posso avere vissuto delle esperienze mistiche pazzesche aver avuto la percezione dell'unità di tutte le cose sentire l'unità di tutto ma se ne parlo io parlo attraverso dei limiti che sono le parole e parlo a persone che filtrano quello che ho detto che ho già filtrato con il mio modo sia di viverlo che di dirlo filtrano loro attraverso i loro pensieri le loro conclusioni e quindi arrivano delle conclusioni che non sono magari in realtà quello che io ho avuto come esperienza e infatti in tal senso per quello che io dico io ho avuto delle esperienze vi do come diceva Camilla cioè lancio dei semi perché non mi interessa che le persone dicano Marco Lazzara il guru del nuovo millennio non mi interessa proprio zero io desidero condividere delle esperienze con persone che sono su un percorso insieme a me io ho imparato tantissimo da bambini gatti cani mendicanti gente che non sopporto ho imparato tantissimo da chiunque quindi io posso dare delle lezioni non io in quanto me cioè ma voi potreste trarre delle lezioni da quello che io dico ma io posso trarre le lezioni da quello che mi dite voi e questo è quello che dovremo costantemente fare essere disposti a prendere da ogni singola esperienza dalla vita da ogni persona dei semi che poi possono germogliare e questa parte della straordinarità della vita che dicevo prima infatti in uno dei capitoli finisco dicendo dando del maestro al lettore perché voi siete dei maestri magari non sempre a volte siamo tutti tutti allievi siamo tutti persone che hanno bisogno di imparare da qualcun altro può essere sul lavoro che uno magari cambia lavoro non ha conoscenza non ha esperienza deve imparare dall'altro chiaramente ma questo è anche nella vita nelle piccole cose nel modo di affrontare le situazioni perché possiamo stare lì a fare un sacco di considerazioni di ragionamenti dare accuse ma se non vogliamo imparare dalle piccole lezioni poi le cose si riproporranno nuovamente in forma diversa io credo profondamente nel libero arbitrio nel senso che noi siamo liberi in ogni momento di scegliere qualsiasi percorso contemporaneamente però credo che ci sia qualcosa di più grande di noi che può guidarci nella mia esperienza ci sono state situazioni in cui se non ci fosse stata una mano che guidava sarebbe andata a finire molto peggio e quindi sono stato sostenuto nonostante la mancanza di fede io credo che ognuno di noi abbia nel mondo un ruolo specifico che a volte non comprendiamo neanche bene e in tal senso è molto interessante un film degli anni 40 se non ricordo male 30-40 di Frank Capra La vita è meravigliosa non so se lo conoscete è un film nel quale il protagonista dopo una situazione pesante desidera di non essere mai esistito allora l'angelo a cui viene affidato chiede al grande boss di mostrargli come sarebbe stata la vita senza di lui e vede appunto sua moglie che non lo riconosce il bambino che lui aveva salvato che invece è morto tutta una serie di cose situazioni che ha mostrato quanto lui che in quel momento si considerava insignificante e avrebbe preferito non esistere e invece ha influenzato la vita degli altri e così noi siamo per tutti cioè poi è chiaro c'è chi magari ha un'influenza minore maggiore eccetera però tornando al discorso del del fatto che ci guida secondo me è vera una cosa è vera anche l'altra io posso dire che in quello che ho letto prima in questa esperienza che ho avuto io ho visto ho avuto questa visione del nulla che contiene il tutto in cui ci sono tutte le possibili diramazioni passate presenti e future il futuro è in movimento non è statico a seconda delle nostre scelte cambia quindi quando si parla di profezie eccetera eccetera i profetti hanno una visione ma a volte è anche un monito no potrebbe finire in questo modo se non c'è la redenzione o il cambiamento da parte delle persone che ci sono ecco la prima versione che avevo scritto aveva il titolo la fede che sposta le montagne poi parlando con un caro amico Gianni Golferra non so se la conoscete esatto si sentiamo ogni tanto abbiamo parlato un po' sull'importanza sul modo in cui viene proposto un titolo ci sono giornata un po' sopra effettivamente sposta le tue montagne è più personale è rivolto al lettore sposta le tue montagne non la fede che sposta le montagne in generale sposta le tue ognuno ha le sue montagne che possono essere magari per qualcuno una collinetta è una montagna per qualcuno la più dura è una montagna però ognuno vive la sua io ho avuto diverse montagne mi sono anche ponito su alcune che volevo raggiungere che non ho raggiunto anche ma qual è la differenza sostanziale che vi invito a prendere in considerazione in questo caso dal mio punto di vista è che la vostra montagna per quanto grande se è quella giusta per voi vi dona gioia se non vi dona gioia non c'entra con voi nel libero vitrio potete continuare ad andarci fate come volete cioè non è che dico no assolutamente no però sarebbe più saggio più salutare per voi dire ok questa cosa mi fa star male via poi uno può anche può anche dire voglio scalare questa montagna è difficile certo sono consapevole che devo cioè però prepararmi anche a superarla perché magari uno non ha i mezzi per superare quella montagna i sette vizi capitali vanno eliminati allora i sette vizi capitali sono parte integrante dell'essere di ogni essere umano cioè nel certo senso tutti quanti siamo siamo un po' superbi siamo un po' avari siamo un po' golosi siamo un po' invidiosi siamo un po' irosi siamo un po' lussuriosi siamo un po' pigri io da parte mia dico che sono un po' tutto di questo ogni tanto scatta in me una parte di uno una parte dell'altro cioè mentirei se dicessi che oh io sono sempre integgiato no non è vero cioè sono umano mi godo il fatto di esserlo perché bisogna anche godersi i propri limiti cosa dico dico in questo libro che il vizio capitale deve non deve può essere visto come una luce che illumina il limite che abbiamo nei confronti della realizzazione di quella cosa noi abbiamo questa componente che ci focalizza su noi stessi perché il vizio in generale è qualcosa che ci focalizza sull'io piccolo ma dobbiamo affidarci qualcosa di più grande di noi facciamo un esempio classico voglio allora voglio perdere 10 chili non so parlo per me allora se ha questo obiettivo non mi basta il desiderio giusto ci sono i sette passi che elenco velocemente in passaggio che sono desiderio quindi ho il desiderio motivazione intenzione volontà scelta determinazione e azione ok allora se io voglio perdere 10 chili 20 chili o scalare l'Everest esempio devo agire passo per passo in quella direzione quindi se io ho questa devo superare questa ho questo desiderio per superare questo devo essere consapevole che devo fare un lavoro su di me non sei costretto a farlo perché se a te piace a me per esempio piace mettermi lì anche non so al dibano non voglio dire alla fantozzi con birra ghiacciata e rutto libero però insomma l'idea è quella cioè se uno vuole farlo cioè oh fratello va bene ma se vuoi perdere 10 chili devi prendere e fare delle cose palestra andare a correre nuotare cambiare alimentazione eccetera eccetera e siccome faccio superare questa cosa determinazione alla morte cioè proprio e sì perché poi il discorso è che noi siamo lì cioè a volte facciamo le cose così abbiamo delle idee ah sì voglio fare questo voglio fare quell'altro bisogna mantenere la determinazione e agire tutti questi tre passi di cui parlo nel libro sono funzionali anche sacrificio sì che è funzionale è qualcosa che vuoi realizzare c'è un un grande lavoro da fare sullo stato mentale cioè nel senso io mi rendo conto che è difficile anche da credere di poter fare questa cosa la meditazione per esempio può essere molto utile in tal senso perché io ne parlo anche nel libro lo scrivo che la meditazione è uno stato fondamentalmente di non pensiero è lo spazio tra un pensiero e l'altro quello è stato la meditazione quindi tu hai il vuoto nella mente e quando hai il vuoto puoi scriverci sopra tu altrimenti normalmente l'essere umano cosa ha? ha tutti sti pensieri che passano uno più veloce dell'altro mi è successo tante volte in passato di avere di avere un pensiero e il pensiero successivo avere come pensiero il contrario del pensiero che avevo avuto precedentemente infatti adesso mi ricordo sono i cinesi e gli indiani che dicono che la mente è come una scimmia impazzita morsa da una tarantola quindi immaginatevi che deve essere abbastanza problematica questa cosa io credo che ognuno di voi abbia avuto l'esperienza del nulla nella propria mente quando? può essere per chi ha dei figli può essere stato il momento in quale ha preso in braccio per la prima volta il proprio figlio può essere mentre si vede un bellissimo tramonto può essere davanti a un piatto straordinario che si mangia in un ristorante invece in cui c'è proprio un momento di godimento totale cioè c'è quello non c'è altro ma è un momento sì però ne hai già avuto l'esperienza quindi non è una cosa che non è possibile perché se tutti ne abbiamo avuto l'esperienza sappiamo che è possibile è chiaro che dobbiamo anche lavorare in funzione di e quindi c'è un lavoro che bisogna fare personalmente io invito a fare meditazione non deve essere una costrizione che uno ogni volta adesso devo assolutamente alle sette mi devo mettere lì perché poi dopo cosa succede quando uno pensa ah mi devo rilassare devo rilassarmi devo lasciare che devo svuotare la mente devo svuotare la mente devo svuotare la mente impossibile svuotarla non pensare a un elefante bianco elefante bianco questo è l'esempio esempio classico no dobbiamo lasciare che i pensieri scorrano proprio quando io consiglio ma lo scrivo anche nel libro quando facciamo ci mettiamo la condizione di dedicarci il tempo di fare meditazione non dobbiamo sforzarci di svuotare la mente dobbiamo lasciare che i pensieri anche più assurdi che ci passano per la testa perché potrebbe venire fuori non so Kermit del Mappet Cho come non so Haktarus oppure Luke Skywalker che arrivano con la spada l'ase Yoda che fa lo scontro col conte Duku questa è una citazione cioè dobbiamo proprio metterci lì e lasciare che i pensieri scorrano cioè lasciarci ma anche se sono i più assurdi non ha importanza a un certo punto per magia se siamo costanti nel questo non imporci nulla c'è un momento di di vuoto e quello è quello che dobbiamo cercare di espandere attraverso come posso dire la coltivazione di questo vuoto ma è un vuoto che poi va riempito e dobbiamo riempirlo con ciò che c'è di meglio insomma ecco però vivere qui ed ora per me vuol dire vivere all'ennesima potenza ardendo di vita facendo quello che stai facendo ma che sia sul lavoro che sia in una conferenza che sia facendo la cacca scusatemi però è così va vissuto quel momento quello è il momento faccio un esempio io ho avuto per anni ho fatto praticamente volontariato con persone disabili mi è capitato per esempio di fare d'assistente in una colonia con persone disabili quindi avevo questa persona 24 ore si 24 siccome ero il più robusto degli assistenti mi è andato questo che praticamente dovevo lavarlo vestirlo pulirlo eccetera l'ultimo giorno che praticamente eravamo a Rimini lui prima di proprio il momento in cui dovevamo partire è dovuto andare in bagno l'hai fatto sai così aspetta un attimo poi sono preparato con i guanti tutto a un certo punto sento fatto proprio ho detto in un modo molto apro la porta e vedo questo questa persona con gli occhi che brillavano in una maniera pazzesca aveva due diamanti negli occhi e io sono rimasto lì così mi si è aperto il cuore in un modo che ho avuto una gioia pazzesca e da lì dico che a volte basta una cagata per essere felici però scusatemi la battuta però ci stava è una cosa cioè io veramente lì mi sono reso conto che a volte noi ci ci intestardiamo su delle cose assurde che pensiamo che siano la realizzazione quando non proviamo gratitudine per le piccole cose cioè non proviamo gratitudine per il fatto stesso di camminare vedere che sembra scontato però c'era un mio amico tetraplegico che andavamo in giro lo portavamo in giro per non so andare a mangiare una pizza così una volta gli ho fatto un video di qualcosa Franco che è bella la vita e dici ma ma cioè straordinario cioè noi siamo lì che ci facciamo tutti ah ma qui lì questo quello e lui nella sua carazzina dice che bella la vita questa è gratitudine quindi cioè io vi invito ad essere grati per le piccole cose ma quando si è grati per le piccole cose poi pian piano se ne aggiungono altre che diventano sempre più grandi e quando ci sintonizziamo su questo stato è inevitabile stare meglio io la cosa che per esempio mi auguravo oggi è che voi chiunque venisse uscendo da questa sala pensasse che bello che è stato come sono stato bene non l'autunno quello che voi provate questo è quello che che desidero anche darvi col libro con le conferenze con quello che scriverò vi ringrazio vi consiglio spostare le tue montagne vi consiglio di leggerlo consigliarlo ai vostri amici e diffonderlo in ogni dove la prossima grazie 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 grazie